L'estate prossima saranno 12 le destinazioni raggiungibili da Bolzano. Cancellata a Mallorca, arrivano Dubrovnik e Kassel, mentre salgono a tre i voli settimanali per Ibiza. Sky Alps torna poi a Cagliari, Olbia, Brindisi, La Mezzaterme e Catania, con un aumento dell'offerta del 70%. Ma la compagnia aerea bolzanina prevede di aprire nuove basi anche in altri aeroporti italiani. Il nostro futuro sarà anche nelle linee italiane. Verona-Bolzano, Venezia, Bologna, Milano e Torino. Testa di ponte sarà a Verona, rimasta priva di voli per Roma. Una rotta, quella per la capitale, che prima della pandemia registrava 250.000 passeggeri all'anno. Il vuoto verrà colmato da Sky Alps, grazie a un altro Dash 8 che entrerà in servizio tra tre mesi. Con un aereo che consuma meno, mi ritengo che abbiamo grandi chance per fare questi voli che gli altri non li potranno più fare. Intanto l'aeroporto di Bolzano raddoppia gli spazi. Da giugno sarà in grado di accogliere fino a otto velivoli.